E l'altra cosa che ti volevo dire è che mi ha colpito come a me piaccia proprio vedere una partita di rugby di ragazzini, c'è qualche cosa che forse non so, sono delle geometrie diverse che tu, a parte che il calcio a me non è mai piaciuto, quindi non ho mai seguito tanto, però andare a vedere il match di rugby di uno dei miei figli, dico cacchio, ma non perché gioca mio figlio, anche quando giocano i suoi compagni, no? Devo dire che mi piace molto, ecco, lo trovo estremamente stimolante e quindi ho detto, beh dai ci fate una chiacchierata e in questo momento il coronavirus l'immagine che a me era venuta in mente quando parlavo con appunto mio figlio che gioca rugby è guarda, è come se in questo momento quando uno sta giocando gli sia arrivato, che gli fosse arrivato, capito, una belva che lo tira giù e questo coronavirus veramente è una, ha travolto, no? Un po' tutta la società, l'economia e quindi serve un po' un approccio raggbistico per uscirne, ecco, insomma, questo è sicuro. Io penso che noi ci dobbiamo sentire per il Seinazione, hanno sospesso il Seinazione, hanno sospesso le Olimpiade, di sicuro ci proveremo a parlare un po' di tutto, però va bene, ci è toccato questa situazione, come tutte le cose, io penso che lo sport ti insegna anche questo, no? Il rugby ti insegna che quando tu ti trovi davanti un ostacolo, c'hai due opzioni, o ti metti a piangere e ti lamenti a te stesso, ti fai solo che male, o ti fermi, guardi, analizzi la situazione, perché dipende solo da te, giocare, non giocare, o tornare dopo un infortunio, più o meno, è più o meno questo, no? E sta, dipende solo da te, ci sono delle regole in una squadra, sai, in questo momento si vive molto così, in questo momento tu hai un allenatore, no? Che ti può dire, quello mi è successo mille volte, no? Ci sono, vai d'accordo, non vai d'accordo con l'allenatore, ma qui tu devi pensare che questa è una squadra, questa è l'Italia di una squadra e tu, nel bene o nel male, tu devi fare quello che la tua squadra dice di fare, finito il periodo, finita la partita, è dove tu ti puoi fermare e parlare o condividere, diciamo, delle idee che puoi avere o non avere o condividere con un allenatore, ma non è il momento del venerdì, prima della partita, di fare queste cose, a me il raggio mi ha insegnato che noi dobbiamo spingere tutti in avanti, se uno spinge di là e l'altro spinge di là, la mischia non va di rita, a me il raggio mi ha insegnato che nel bene o nel male ci dobbiamo unire ancora di più e andare avanti, no? Io l'altro giorno ascoltavo una frase che mi hanno detto che store time is a team time, ed è una grande frase, è una frase molto, molto bella, che dice molto, raggruppa tante cose dentro.